Il nostro video è un albero Quindi io non ho capito cosa devo fare io Sono un albero Ciao Michele con questo video vorremmo esprimerti Il nostro Ah 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 Tutti è un rettini Oh Cos'è che fai? Cioè ne è venuto strano quando Vabbè rifacciamo Eh con questo video Vorremmo esprimerti tutto il nostro Ah 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 Cos'è? Io accuso Michele Quanto è dura il filmato? Cioè viene registrato male Non riesco a dire Cioè tutte le volte che ripeto la parola Ah 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 Sento un rumore strano Il regalo per te Eh? Nell'attuale contesto sociopolitico geografico economico La Grecia Sì molto probabilmente uscirà dall'auro Però rimarrà Michele Oh ma rovventiacco Eeeh Uh! Rio! Eeeh Michele Noi alla fine siamo Uaaaaah Ma quindi lei come si è trovato quest'anno Con questa compagnia? Bah Beh Insomma C'era un Il maestro Eeeh Eeeh Michele 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 Maave Michele Eeeh Mi Cheeeeh Michele Michele Si Facceva? Ni Cac Mi Cac Questo è davvero carico! Ah, devo alzare la voce! Topo, 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 topo! Sono bellissime le coppie che sono nate quest'anno al corso di teatro di improvvisazione. Oh, il iletter catto! Ok ce la vai! Wow! Non dai sgiracca! Non dai sgiracca! Aperai sgiracca! Dai sgiracca! Di felice! Felice! Pulp! Aiuto! No! No! Salve, abbiamo aperto questa sera questo corso di improvvisazione teatrale. Allora ci interessa sapere così in prima battuta perché secondo noi è in prima battuta che le prime impressioni ci sembrano quelle più importanti. Come vi è sembrata questa cosa? Anche secondo me. Proprio sono completamente d'accordo con lei. L'iscrizione è a parta a tutti il prossimo anno. Io ho sentito dire della roba. Che cosa? Ho sentito dire forno. No, ma allora mi segno subito al corso eh. Mi dici stare qui. Di un certo spessore. Spessore così. Mi hai colpito fin dal primo giorno che ti ho visto. E da allora non ho fatto altro che pensare a te. a noi. A come potrebbe essere la nostra vita assieme. a noi. Precedenza di telepass. Cristo! Cosa ti hanno fatto? Cristo! Ma Cristo in che senso? Cristo! Oh mio Dio. Siedimi, faccio la sostanza. E la vera che cosa? Andiamo. Michele, Michele, perché mi hai abbandonato? Puoi spinare tutta la Guinness che vuoi, dobbiamo finire il fusto, dai! Per Michele? Aspetta. Topo, 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 topo. È successo una cosa tremenda. No. Michele ci ha scoperto. Michele chi? Di felice. Felice. Lo strizzo a cervelli. Ottenere il controllo delle mente di tutto il mondo. Diavolo, puoi dirlo forte. Io ti ho sempre amato. Ma davvero, ma anche più di Roberto. E anche più di Antonio. E di Manuel. Di di Pagliaccio! Aris, non devi andare via. No, lasciami andare! No! Fate un cecchio. Sì, prego, ciao. Cosa preferisco di Michele? Io devo dire cosa mi piace di Michele. Cosa mi piace? Mi piace di Michele. Di Michele mi piace un casino e il suo portachiavi. 70% portachiavi, 30% Michele. Geloso. Grazie, Michele. Giocondo. Grazie, Michele. Grazie, Michele. Isterico. Grazie, Michele! Apatico. Grazie, Michele. Pfff! Sereno. Grazie, Michele. Che belli che siete! E dissero tutti felici e contenti. Buio! Ragazzi, io vado a letto. Ciao! Buio! 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 Buio!